ciao a tutti da bea bentornati sul canale di p santana siamo qui ancora con lost in random e continuiamo le nostre avventure della nostra piccola even allora abbiamo appena avuto da una i cinque puntini per metterle a dei sì ora dobbiamo tornare da tre occhio per farci rimettere allora che se non mi sbaglio a questo che ci fa qui ma c'è anche un altro allora non le prendo c'ho le anfore davanti ok qui intanto c'è altra gente è però lui mi prende anche se c'è l'anfore vale 4 ok e la bolla questa la mettiamo da parte con anche questa ok meno uno ce n'è un altro non do mollare e vai un altro e no eh così non vale rotto allora questo ce l'asserviamo ah no non c'ho ok tanto queste ora le prendo spadina doppia questa l'asserviamo un to che ce l'asserviamo e piccherei due qua che sono qua che sono questi via via un altro via via spada rotta quattro allora con quattro vita usiamo il token e pigliamo le freccette che mi ha preso che mi ha preso eh loro si spostano ah l'ho finita no ok ora si l'ho finita ora si l'ho finita allora vediamo questa cosa ci da vita prendiamo questa e me ne fa una solo si vabbè vabbè proviamo a metterla qui e la vita ce l'asserviamo vediamo almeno uno l'ha preso ok ok vediamo se mi da un'altra arma ok lanciamo desi due usiamo questo ok non ti mollo ha dell'altri ma quanta gente c'è qui ma non vale così questa non è l'arma giusta per loro via via ok no ho caricato prima io ah oh vai oh vai ok 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 mamma mamma quanta gente c'era allora triocchio prima eccolo lì infatti nella piazza sempre sorpreso io e danse sappiamo badare a noi stessi io e danse sappiamo badare a noi stessi i have no doubt it's just it's usually a 50-50 chance Uma pizza visitor she must have seen something in you she liked more than just the marrow in your bones and you've got the pips with this i can give dicey a mighty five all you need to enter that final arena to battle the foreman and his high rolls are you ready before you answer know that things might get uh dicey as soon as you have a five there will be no going back so you tell me kid do we do this or no procediamo devo fare una cosa prima procediamo high five ok just gotta add the pips easy easy and 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 weep slime face and that entitles me to a gamble I lose you get my five but if I win I get Bruno bet he wants to gamble she thinks all she needs is a dice to beat me I had a nightmare last night you know I lost a bet but when I woke up but when I woke up I knew that was impossible because the high roller never loses I won't I won't have mercy on you this time you've earned my full my small wars and 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 this is what happens when you step out of line I'm for me and 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 so questo tanto allora qui le prenderò tutte e due ok mi serve anche un altro tipo di arma sono già piena quindi mi serve questa si questo che almeno me ne prende un po' ok allora vediamo un attimino noi ci mettiamo qui dietro questo questo eh 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 intanto riprendiamoci subito un pochino di vita ok ok poi colpa a lui hai hai ahi mi ero scordata che c'avevo le frecce questa questa e per ora e per ora basta perché questa ancora è bella carica via via Ai, sono rinchiusa Cinque Vita Bolla Vediamo questa cosa ci riserva Sì, rinnoviamo questa qui Questa la mettiamo da parte E questo lo facciamo Vai, è uno meno Quello grande già non c'era più Ok 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 Ora con l'ultimo uccellino qui Colpo sicuro Evoca una piattaforma per dadi Salici su per caricarla Lancia il dado quando ci sei sopra E se carica Otterrai sempre il numero più alto Scompare dopo un minuto E abbiamo vinto Ah sì, eh Ah sì, eh Ok 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 A Ok 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 Bruno, mio fratello! Ludo, mio fratello! Oh, i knew you'd gamble me back! You saved him even, and in exchange I promised you a trip through the bag. And Bruno can tell you I'm as good as my word. Oh, he is that! There, she's all yours! Ok. Non so se quello che stiamo facendo è giusto o sbagliato, ma... Non lo so, Desi, continuo a pensare la stessa cosa. Questo. So che voglio tornare a casa. Qui ad Ella non mi sento a casa. Qui ad Ella non mi sento a casa. La mia casa è ovunque. Siano le persone che amo? È un bel pensiero, ma... Si, si apprezzo quello che sta cercando di fare. Quello sopra. Ma che succede se la persona che amo non vuole essere salvata? Ma non ne ho più la forza. Questa. Ma che l'ho mai stata? Non mi sento? Ascolta, io, ascolta. Questo sacco è grosso, eh. L'ho sempre ammirata, ma non è più la persona che credevo fosse. Lei aveva sempre tutte le risposte, ma non posso seguirla né sulla strada che ha scelto. Non lo so Ehi, parliamo di qualcos'altro Scusami, parliamo di qualcos'altro Parliamo di Oama? E del dado quadro? Perché non mi hai ancora mandato al diavolo Daisy? Parliamo di Oama Ha detto che tutti una volta avevano un dado personale Ti ricordi com'era la vita? Per cosa venivano usati i dadi solo per combattere? Ti ricordi com'era la vita? Wow Facevate apparire le case? Davate forma al destino, proprio come noi due Corse dei dadi? Facevate un sacco di magie? Vi tenevate compagnia? Lo capisco, è bello stare insieme Boh La possibilità erano proprio infinite, eh Effettivamente sembra fosse un po' caos Come la vita del resto Boh E del dado quadro? Allora, qui mi richiede la stessa cosa Va bene così Eh sì, questo sacco è enorme E anche abbastanza inquietante, vero? Credi che ci sia qualcun altro qui dentro oltre a noi? Questo qui Se la esploriamo Magari sarà un po' meglio inquietante Cerchiamo di vedere dove arriva Vai Allora, esploriamo questo sacco Ah, qualcuno c'è però Parliamo con i fantasmi Quale storia? Oh, ok È morto Hmm Voglio sentire anche loro La persona I don't know what they eat down here I'm not sure I want to find out I'm not sure all of them know Dedo Qui sono tutti morti? Sono stati i fratelli Saccoccio a fare tutto questo? Qui sono tutti morti? Li voleva solo indietro suo fratello Mi hanno ingannata Li voleva indietro suo fratello E' un pollo, sai? Ma è vero Ma è vero Ma è volto Questa è volto La bag ha riuscito i fratelli La bag ha riuscito i fratelli Chiamatli Possessi Madeli freddo Per più e più La bag ha chiesto di farlo Con lo che potessi trovare I fratelli 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 E non c'è via d'uscita? Dobbiamo fare qualcosa. E non c'è via d'uscita? Cos'è stato Cosash? Anch'io sento qualcosa. C'è riva. Non c'è un vròti. Oh no, io non vi do proprio niente. Allora. Non ve lo do. Perché nessuno non può essere bello a me? Non ve lo do. Re, ma non c'è nemmeno un'arma. Allora. Allora, il token ce lo teniamo. Sì. E anche la vita a questo punto me la terrei. E questo qui fa danni. Quando subisce... Infra, tu mi cristalli. Ma quasi quasi. Tanto se no lo userei. E vediamo anche quell'altro... Questo cosa fa? Ogni cristale vale di più. Aumenta la velocità della... Anche questo. Tanto non... Oh vai, via. Iniziamo. No, no. Brava, diglielo. Ok, il pieno. Due. Vabbè, abbiamo almeno una spadina. E basta. Non posso fare altro. Ho un picchio a questo. Vabbè, via. You lost your humanity a long time ago, you idiot. We'll take everything we want from you. Spada rotta. Allora, questo vediamo cosa ci dà. Perché questa è buona, eh? Sì, sì. Poi la pallina, questa fa sempre comodo. Non so se usare la vita o aspettare un altro pochino, tanto me la tengo salva. Ma andiamo avanti. Aspettiamo, siamo coraggiosi. Ma spariscano. Aspettiamo. 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 E' rotta Ma la piana Questa fa sempre comodo Abbiamo un token solo Allora uso quell'altro e mi rimetto un po' di vita Si va E ora aspettiamo Dai un'armettina Mi serve un'arma Eh con uno la spadina E poi rimettiamo la pallina Ai Ai Cattivo Vogliono morire Oh cinque Questa si sempre E poi prenderei Si questo qui Vediamo anche cosa ci dà Magari c'è adesso un po' di vita No Eeeh Boh Cresce danni Questo E mettiamo questa qui Ok Oh Oh Eeeh Che carini alla spada del 3 ok ce l'abbiamo questa ok seguo i fratelli seguiamo i fratelli sono andate di qua anche se mi fido poco comunque chiusa dove mi portate e lì cosa c'è si si vado vado in balia del faso quindi attendi la morte ah come sono contenti loro no 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 noi andiamo sempre verso le lucine questi alberi giganteschi dove siamo dove sei odd ok arrivo arrivo e qui dove siamo qui 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 hanno preso 3 occhio qui qui tante ma le devo prendere tutti loro qua c'è un'altra qua c'è un'altra adesso non ci arrivo cosa vuol dire questa cosa l'ho vista qui dietro non c'è nessuno c'è un'altra anche qua ma quante ce n'è? qui è chiusa la via? no sto andando giusta? e questa c'ha la maschera odd è così bello rivederti dobbiamo andare ora no odd non era quella che volevo odd ti prego ho fatto tutto quello che potevo no non è vero odd ma che ti prende? questa non sei tu oh no questo è me io finalmente vedo chi sono e tu dici lo stesso ho trovato il mio casa il mio vero casa la luce di Queen è difficile ma non mi abbandonare non ti prendi questo quindi non voglio essere salvato ho cambiato e è ora che l'ho fatto la luce di Dice trae ordine la Queen trae ordine e tu tutto che sei è un agent di caos non ti prendi questo 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 non ti prendi il tuo non ti prendi il tuo non ti prendi il tuo perché questo sembra come il tuo ultimo stop e hey happy 12th birthday kid ah guarda ci ha messo il 6 è brava la morte va bene ragazzi io mi fermerai qui per questa puntata mettete like condividete se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ciao a tutti da Bea ciao ciao ciao